Sì, buongiorno a tutti, sono il Capitano di Frecata Bruno Viafra e sono il governante dei navi avviere che vedete sullo sfondo. Fondamentalmente siamo aperti alle visite al pubblico praticamente tutti i giorni, in particolare oggi e domani per l'intero fine settimana dalle 10.30 a mezzogiorno e alle 15.30 alle 18.30 del pomeriggio. Fondamentalmente ci avviamo verso l'ultimo viaggio di attività operativa di queste navi, qui partiremo lunedì mattina alla volta di Crotone dove resteremo in sosta dal 10 al 13 e successivamente il 14 rientreremo a Taranto. Queste navi saranno sostituite in futuro dalle nuove unità in produzione nei cantieri di Aspezia, denominate Fremmel che sono delle fregate multivolo e che sono fondamentali per il rinnovamento della nostra flotta. La flotta che è costituita da circa 60 navi di prima e seconda linea e nonché unità specialistiche. E' indispensabile il rinnovamento della flotta affinché l'Italia possa essere dotata di uno strumento efficace e flessibile e innovativo per difendere i propri interessi nazionali. In considerazione del fatto che il nostro paese è un paese a forte vocazione marittima, basta considerare che ci sono 8.000 km lineari di costa, è al centro del Mediterraneo che a sua volta è al centro del mondo. Rappresenta l'1% degli specchi acqui del mondo ma è attraversata circa il 20% dei trasporti di merce mondiali. Quindi essendo la nostra un'economia di trasformazione è fondamentale controllare la libertà delle linee di traffico. In questi giorni le navi sono aperte all'ingresso del pubblico. Queste navi hanno una storia densa di missioni. Tra l'altro a cosa hanno partecipato? Sì, effettivamente nell'attività quasi trentennale di entrambe le navi, in particolar modo la mia, ha partecipato a delle attività particolarmente importanti. Basti pensare nel 2002 all'operazione Enduring Freedom nel Mar Arabico, dove la mia unità di scorta alla porta aerea e ai Garibaldi è rimasta in attività per circa 5 mesi fuori dal Mediterraneo, lontano dalla Mardipatria. negli anni 2004, che vanno dal 2004 al 2010, ha preso parte all'attività Active in Devo sotto bandiera Nato per la libertà e il controllo dei traffici mercantili nel Mediterraneo orientale per evitare la diffusione del terrorismo transnazionale e la diffusione delle armi di distruzione di massimo. Non dobbiamo dimenticare poi l'attività svolta nel 2009 sotto bandiera ONU, con la quale l'Italia ha dato la possibilità al Libro di riacquisire la solidarietà delle proprie acque di terreno a seguito del blocco navale operato da Israele. Poi ha preso parte la principale attività addestrativa, che è una unità che prima di entrare in operazione viene prima testata e addestrata. Quindi invitiamo i reggini a visitare queste bellissime navi. Certamente, siamo a vostre complete disposizione, vi aspettiamo numerosi. Grazie.